6 scherzi divertenti da tutto il mondo Come si chiama qualcuno che ha studiato la letteratura norrena e ne è diventato un esperto? Molto è daccato Come trovi Will Smith nella neve? Cerchi il principe fresco Dove teneva le sue armate il generale? Nei suoi manicotti Come si chiama un commesso di supermercato rumeno? Scansi una su Perché dovresti sempre portare un paio di pantaloni di riserva quando giochi a golf? Nel caso in cui tu faccia un buco in uno Qual è la differenza tra un ebreo e una pizza? La pizza può avere prosciutto e formaggio insieme La pizza può avere prosciutto e formaggio insieme La pizza può avere prosciutto e formaggio insieme